Tutti, nell'arco come dicevo della giornata, sono stati fra l'altro rintracciati non solo qualcuno sulla provincia di Como, alcuni sulla provincia di Monza e anche a Milano. No ma perché a 13? Quelli che di Como quanti sono? Un rischio della operazione separata, una di Como della procura di Como e una della procura di Monza. Quelli di Como sono 8? Quelli di Como sono 8 vero? Sono 7 quelli di Como. Ah 7 e 13 con quelli di Monza? Con quelli di Monza, si esatto. La procura di Como ha lavorato con il nucleo radiomobile mentre la procura di Monza con la stazione titurata. Ecco la...